ciao ragazzi bentornati in questo nuovo video sono fuori dallo stand del motorbike expo di verona sono arrivato un pochino presto tra un po entrerò però verso le nove niente oggi farò un video solo per quanto riguarda le moto custom e nella seconda parte del video ci sarà solo le ragazze del motorbike expo di verona quindi ragazzi non perdiamo tempo aspettiamo di entrare e ci vediamo dentro adesso sigla eccoci qua siamo dentro adesso come primo stand se lo vedremo i caschi della simpson bellissimi vediamo un po qui c'è una parte della custom planet come vedete qui ci abbiamo la classica club style questa se non sbaglio dovrebbe essere d'aina nel 2005 molto bella scarico bassani e freni brembo stupenda questa preparazione di dynamite garage dovrebbe essere la moto di moto gods è bellissima guardiamoci un po di macchina adesso bellissime io vorrei avere una macchina così a casa un po di moto spettacolari questo è il club style di chopper stupendo adesso stiamo allo stand di low ride dove vedremo tra le molte moto più belle che ci sono secondo me customizzazioni diciamo più moderne e questa è la moto di rp motocycle guardate che bella fa veramente impressione a quanto è bella guardate questa bellissima chicano style se volete un po di carbonio qui ne trovate a bizzetta siamo a carboni di genichia e ora vi farò vedere un po di moto super accessoriate con con il carbon qui siamo nel stand di Austin Special Bike guardate che spettacolo guardate che spettacolo io non potevo andare da Johnny Rapina dove c'è tutte le t-shirt bellissime guardate quellino anche il cappellino questa è un'azienda della Romagna guardate che spettacolo la troviamo spesso anche al Bike & Bikini Festival di Gesenato Musica Ok ragazzi abbiamo finito Abbiamo visto Queste bellissime moto E niente ragazzi Io spero che il video vi sia piaciuto Iscrivetevi al canale Seguitemi su Instagram Se volete avere qualche informazione Iscrivetevi pure non c'è problema Ciao ragazzi al prossimo video See if you ride